2.000 contagi in campagna, bisogna restare a casa. Gli esperti confermano che presto ci sarà il picco di malati da coronavirus. I sindaci chiedono test veloci, ma il direttore dell'Istituto Zooprofilattico di Portici, il limone avverte, se restiamo a casa presto vedremo i benefici. A Pozzuoli fanno festa, l'ira del sindaco. L'emergenza coronavirus ora è allarme povertà, file e disperazioni alle menze a Napoli, aumenta il disagio sociale, i politici insistono, c'è bisogno del reddito di quarantena. Intanto l'avvocato Pisani lancia l'appello per una bimba di 9 anni, rimasta da solo al bomero. Ariano ancora morti, casa dei contagi isolata, altre due vittime del centro Minerva per anziani, cresce la paura nella città del Tricolle, che piange anche la drammatica fine di Suore Emilia, uccisa dall'infezione. Ad Avellino il sindaco accelera per i tamponi e i pacchi alimentari. Sannio, clinica, focolaio, si temono altre vittime, continua a salire il numero dei contagiati nel Beneventano, situazione critica all'interno della clinica privata Villa Margherita. Oltre 50 ai pazienti e ai sanitari risultati positivi. Appello di accrocca ai fedeli, rispettiamo i divieti. Il virus non si ferma, quattro morti nel Salernitano, sempre più pesante il bilancio delle vittime. La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte sospetta di un cinquantenni a mercato San Severino. Quattro sanitari risultano indagati. Guarito il ventottenne Salernitano, che era stato ricoverato in terapia intensiva a Napoli. Coldiretti, aziende ferme, intervenga la regione, circa 70 milioni di euro fermi da quattro anni per problemi burocratici. Ora la regione deve intervenire. C'è l'appello della Coldiretti Campania, che sottolinea come questi fondi potrebbero aiutare il settore agricolo in questa fase di emergenza. E questi erano i nostri titoli. Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione del canale 696. In apertura ovviamente il coronavirus. Facciamo il bilancio dei contagi in Campania. Abbiamo raggiunto quota 2000 e comincia oggi una settimana molto critica. Il picco, secondo gli esperti, si sta avvicinando. Ieri un bollettino nero con 193 tamponi positivi. In un solo giorno facciamo il punto nel servizio. Covid-19 verso i 2000 contagio in Campania. 193 i positivi in un solo giorno. Ed è rivolta dei sindaci in regione che invocano più test e risultati più rapidi per arginare il contagio. Intanto il sistema sanitario è in affanno. Anche l'Istituto Zoprofilattico di Portici è in campo per eseguire e processare i tamponi. Come spiega il direttore Antonio Limone nella rubrica a cura del direttore Pierluigi Melillo punto di vista. Ci siamo comportati molto più rigorosamente dopo una prima fase dove l'avevamo presa un po' troppo alla leggera e oggi cominciamo ad incassare qualche buon risultato del nostro comportamento più rigoroso e mi riferisco ovviamente all'isolamento. E' questo lo strumento fondamentale per difendersi dal coronavirus. Intanto molti sindaci scrivono ad ASL, regione prefetti, preoccupati per i posti letto che scarseggiano ma anche per i tempi di attesa per i tamponi come succede sull'isola di Ischia. Quando a livello centrale arrivano delle indicazioni quelle sono seguite e forse sono il modo migliore per uscirne altrimenti lo sforzo organizzativo si disperde anche in tentativi piuttosto giusti. Ed è quello che poi è successo perché l'indicazione di fare i tamponi in questo modo qui per quanto è discutibile è quella che ha dato l'OMS. Ora oltre a questo altre tentative hanno un senso ma se inquadrati in una dinamica regionale e comunale che poi regge se metti i laboratori al collasso poi questo sforzo non ti aiuta più perché impegni troppo personale sanitario che devi utilizzare altrui. Balli e musica nonostante i divieti una vera e propria festa comunale è stata organizzata nel rione popolare marocchini di Pozzuoli hanno partecipato una cinquantina di persone come si evince da alcuni video postati sui social ed ora sono scattate le indagini di forze dell'ordine e polizia municipale per risalire agli organizzatori e ai partecipanti. Dura la condanna del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia sulla sua pagina Facebook. Parla di un fatto scandaloso, balordi, irresponsabili senza alcun senso civico. Pensavano di essere lontano dagli occhi e quindi di poter fare tutto. Le regole, aggiunge il sindaco, dobbiamo rispettarle tutti. Non possiamo rischiare di vanificare i sacrifici. Polizia e carabinieri stanno individuando i partecipanti. Scatteranno denunce e sanzioni, ha scritto il sindaco. Intanto cresce l'allarme per il disagio sociale. Un'attesa dei fondi destinati ai poveri, associazioni e menze si attivano per aiutare i più bisognosi. File chilometriche alle menze a Napoli. Alcune immagini che fanno davvero riflettere. Vediamo. L'allarme povertà comincia a preoccupare. I volontari delle menze sono al lavoro a tutta forza, ma non solo. Si organizzano anche pacchi alimentari da destinare a persone bisognose. A Napoli, con il caffè sospeso, ora c'è anche la busta della spesa sospesa. Alle menze si è registrato un boom di presenze, con il rischio anche di ressa. Sono 140 i pasti al giorno che preparano alla mensa del Rione Sanità. I volontari lavorano anche senza protezioni. Mentre il centro ester di Barra mette in rete le offerte, ci si può prenotare tramite la registrazione sul portale di spesa onlus.it. E intanto cresce l'allarme sociale. A Napoli, una bimba residente al Vomero, è rimasta sola perché il padre è morto dopo aver contratto il virus e la madre ora è ricoverata in ospedale sotto osservazione. A lanciare un appello è l'avvocato Angelo Pisani. L'appello al governo, ai presidenti di regione, è quello di organizzare quanto prima delle stanze, dei locali doni per accudire i bambini sfortunati, figli di vittime del coronavirus e far sì che questi possano essere anche seguiti, assistiti, curati in questi giorni di grandissima difficoltà. Il presidente Luca in Campania, prima che scoppi la catastrofe che anche lui ha annunciato, deve requisire degli alberghi, dei locali e subito predisporre delle stanze in caso che bambini sfortunati dovessero rimanere soli, senza genitori. Subito il reddito di quarantena o è a rischio l'ordine pubblico. Da Napoli arriva la richiesta di aiuto più di 500.000 le persone in gravi difficoltà economiche. Il sindaco De Magistris fa partire il censimento. Intanto l'opposizione in Consiglio regionale insiste sul commissario per l'emergenza. Alle misure rigorose prese per combattere il contagio è indispensabile adesso aggiungere misure di sostegno alle famiglie, di aiuto ai singoli cittadini in difficoltà, a quei settori su cui il prolungarsi della crisi pesa in maniera drammatica. A tal fine la Regione Campania ha definito una piattaforma, un programma di aiuti da sottoporre entro domani al Governo nazionale. Nel frattempo l'anticipo di cassa ai comuni vale circa 7 milioni e mezzo per la città di Napoli, quota che Palazzo San Giacomo gestirà attraverso i servizi sociali. Sarà individuata una platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti. A Napoli si stima che sia un quinto della popolazione almeno 200.000 persone ad avere bisogno. Il sindaco Luigi De Magistris è consapevole che serve tanto altro. Bisogna evitare che questa tragedia sanitaria diventi un fatto di ordine pubblico, ha detto il primo cittadino. Serve il reddito di quarantena. Da oggi il Comune fa partire anche il censimento per verificare come distribuire i fondi del Governo e quelli stanziati dall'ente per il reddito di solidarietà comunale. Reddito mensile di 600 euro lo chiede anche il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Stefano Caldoro che in un video oggi richiama le proposte del centrodestra e insiste ancora sulla necessità di un commissario. Per Caldoro De Luca non sarebbe all'altezza di gestire questa situazione di emergenza. Abbiamo riconfermato la necessità di un commissario per l'emergenza, modello Arcuri o Bertolaso, una persona che è in grado di risolvere i problemi, soprattutto degli approvvigionamenti, quindi macchinari, mascherini, eccetera. Non ultima, ma essenziale, immediatamente intervenire sul piano economico. Su questo bisognerà intervenire immediatamente, farlo con una forte voce comune anche verso il Governo nazionale. E sono state acquisite dalla Procura di Salerno le immagini amatoriali girate sabato in via San Leonardo nelle quali si vede l'ultima fase dell'inseguimento di un uomo di 50 anni originario della provincia. I carabinieri che cercano di immobilizzarlo, ma lui reagisce. Ne è nata una colluttazione, ben presso 5 carabinieri hanno circondato l'uomo che è stato colpito a manganellate a più riprese. Oltre alla Procura anche il Comando Provinciale dell'Arma vuole vederci chiaro ed ha avviato un'inchiesta interna sul comportamento dei militari. L'uomo, ora ricoverato nel reparto di psichiatria del Ruggi, era sfuggito all'alto dei carabinieri mentre era alla guida di un'auto senza pneumatici. La vettura è a bordo strada, la vediamo volta dalle fiamme provocate proprio dalle scintille causate dallo sfregamento dei dischi sull'asfalto. Il cinquantenne è stato denunciato per resistenza a violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ma intanto il video è stato acquisito dall'autorità giudiziaria mentre il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Gianluca Trombetti, ha aperto un'inchiesta interna. L'emergenza sanitaria al centro per anziani Minerva di Ariano Irpino. Tre morti in poche ore, due già positivi al coronavirus, un terzo sotto esame. chiesa di nuovo in lutto sempre ad Ariano per la scomparsa di suore Emilia al Moscati di Avellino ieri e questa mattina sempre all'ospedale Moscati di Avellino è deceduto un 82enne residente a Mercogliano affetto da Covid-19. L'uomo era ricoverato dal 24 marzo scorso nell'unità di malattie infettive dell'azienda ospedaliera Moscati. Ma vediamo com'è la situazione ad Ariano. Tre decessi in poche ore, tutti i pazienti ospitati nel centro Minerva di Ariano Irpino, due donne già risultate positive al tampone da coronavirus al Moscati di Avellino e una terza anziana stamane nativa di Grotta Minarda ma con residenza a Frigento da sottoporre ad esame post-mortem. Un'emergenza sanitaria scoppiata all'interno della rinomata struttura di Contrada Serra e che si spera possa essere contenuta. Nella giornata di oggi verrà effettuato il tampone a carico di degenti operatori considerati a rischio contagio. Test a cura dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno diretto da Antonio Limone. Intanto il commissario prefettizio del comune di Ariano Irpino, Silvana D'Agostino, rinnova un forte appello a tutti. Coloro che hanno frequentato il centro Minerva hanno l'obbligo di comunicarlo immediatamente al proprio medico curante e al comune di Ariano Irpino. Ed è di ieri la triste notizia della morte di Antonietta Scaperrotta per tutti i suori Emilia. Il suo cuore si è fermato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Moscati di Avellino. La speranza è finita ieri. Chiesa di nuovo al lutto ad Ariano dopo la scomparsa del decano dei sacerdoti Don Antonio di Stasio. Con il cuore sanguinante, le lacrime agli occhi, vi comunico che è morta su Remilia. Vi chiedo di pregare e celebrare una santa messa in soffraggio per una religiosa che ha dato tanto alla nostra chiesa. Queste le parole commosse del Vescovo Sergio Menillo, profondamente addolorato dopo questa ennesima grave perdita. Continua ad aumentare anche nel sannio i contagiati da coronavirus. Il focolaio all'interno della clinica privata Villa Margherita alle porte di Benevento ha fatto balzare anche il sannio nei numeri dei positivi da Covid. Vediamo. Sono decine i nuovi casi di Covid-19 nel sannio. Numeri provvisori destinati a crescere con l'arrivo delle analisi che in queste ore anche l'ospedale Rummo di Benevento sta effettuando sui tamponi fatti, maggiormente dopo il caso del focolaio di persone che si sono infettate all'interno della clinica privata di riabilitazione Villa Margherita alle porte della città. Attualmente all'interno della struttura sono risultate positive 53 persone tra pazienti e personale sanitario. Dei positivi della struttura sanitaria, 28 risiedono fuori province, 25 risiedono invece nei comuni di Benevento. Il personale dell'assistenza sanitaria è stato potenziato con il reclutamento di infermieri attraverso una società interinale a cui si aggiungono tre medici oltre il direttore sanitario. Alcuni pazienti con un quadro clinico più preoccupante sono stati trasferiti e ricoverati presso l'ospedale Rummo del capologo Sanita. Altri pazienti positivi ma allo stato non in pericolo di vita o addirittura sintomatici restano invece all'interno della clinica che nelle prossime ore, visto il personale sanitario già contagiato e per alcuni già in via di guarigioni, potrebbe diventare un Covid hospital al servizio dei pazienti infetti. Ipotesi che dovrà però trovare conferme nelle prossime ore quando dovranno essere definiti i dettagli con ASL e Regione che è competente in questa materia. Adesso andiamo a Salerno, nella provincia, altre quattro vittime in poche ore. Intanto la procura di nocere inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte sospetta di un cinquantenne a Mercato San Severino. Vediamo. Il coronavirus avanza nel salernitano e continua a provocare morte. Nelle ultime ore altre quattro persone, tra coloro che erano risultati positivi al virus, hanno perso la vita. Salerno piange la scomparsa di due suoi concittadini. Questa mattina al Cotugno di Napoli è deceduto un ingegnere cinquantotenne sarnese che da qualche tempo risiedeva nella città partenopea. Ieri era aspirato un 39enne che non soffriva di particolari patologie ma il cui cuore ieri ha smesso di battere a Ruggi, dove era ricoverato da 12 giorni. Partecipiamo non solo come amministrazione, come consiglio comunale, ma l'intera città. Ieri la città di Sarno era letteralmente avvolta da un silenzio isreale. Voglio sperare che quanto prima si riesca a fare un tampone o il test su sangue rapidamente, perché dobbiamo isolare quel 20% di popolazione che è a rischio, in ospedale effettuare i tamponi su tutti i sanitari e su tutti i parasanitari. Lutti anche a Pagani ed Agropoli. Nell'agronoce rino sarnese è deceduto all'ospedale di Scafate una 79enne che era stata tra le prime positive accertate nella città di Pagani. Nel Cilento ha perso la vita un 55enne ricoverato al Cotugno da due settimane. L'uomo lavorava al Tribunale di Salerno. È guarito invece il 28enne di Sant'Egidio del Monte Albino che era stato in terapia intensiva al Cotugno. Nel frattempo la Procura di Nocere Inferiore ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 50enne di Montesarchio all'ospedale di Mercato San Severino. Un sospetto caso di Covid-19 per il quale risultano indagate quattro persone tra medici e infermieri. Torniamo ad Avellino. Pazienti parcheggiati anche per più notti nel pronto soccorso dell'ospedale Moscati. Il sindacato chiede l'intervento immediato del manager Pizzuti. Sentiamo. Mentre in Irpinia rimane alto il tasso di mortalità rispetto ai contagiati, l'ospedale Moscati di Avellino resta in affanno. Continuano a scarseggiare i posti letto e si ripetono scene di pazienti, casi sospetti parcheggiati al pronto soccorso anche per più di una notte. Riteniamo, dicono il segretario provinciale Nursin Romina Iannuzzi e quello aziendale Michele Rosapane, la gestione organizzativa e strutturale di Contrada Moretta carente. Al pronto soccorso della città ospedaliera risulta esserci un problema di congestionamento di questi pazienti sospetti Covid. Ne risultavano stamattina tre in attesa di essere ricoverati. Già domenica c'era difficoltà a ricoverare i pazienti sia stabili sia in area di subintensiva. Il rischio che si corre è che se arrivino altri pazienti che trasporta il 118 potrebbero aspettare delle ore in attesa che si liberano le camere per ospitare questi pazienti nel pronto soccorso. Credo che comunque la direzione strategica debba intervenire più che altro per attivare altri posti letto. Ancora ieri si sono registrati 12 nuovi contagiati. Siamo abbondantemente oltre quota 200 in provincia di Avellino ma c'è anche una buona notizia che arriva dal Moscati. Un altro ricoverato, un cinquantenne di Ariano Irpino, è stato estubato e trasferito in altro reparto. Arriveranno giorni ancora più difficili di quelli trascorsi la disciplina. Un invito a non cederi al panico, a restare forti, è il messaggio dell'Arcivescovo di Benevento Felicia Crocca durante l'Omelia della Messa per la quinta domenica di Quaresima celebrata nella Cappella della Curia Arcivescovile. Veniamo da settimane che hanno messo alla prova la nostra resistenza, ha spiegato il pastore della Chiesa Beneventana riguardo all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di coronavirus. E la tentazione sarebbe quella di allentare la presa. E invece dobbiamo tenere duro solidarietà ai malati, alle loro famiglie, a chi li assiste, ma disciplina per contenere i focolai. E al tempo stesso dobbiamo collaborare con le istituzioni, cercando di non farci prendere dal panico, di tenere lontani atteggiamenti che potrebbero anche scaturire nel clima di questi giorni e che però alla fine finirebbero per danneggiarci ulteriormente. Contro derive pericolose, Accrocca invoca un clima sommesso nella settimana di passione e poi il suo messaggio di speranza. Ne usciremo, ne usciremo tutti insieme, perché qui solo insieme possiamo uscirne e possiamo uscirne nel modo migliore. Paura sull'autostrada, 16, direzione Bari nel territorio di Montemiletto, un autocarro diretto in Puglia ha preso improvvisamente fuoco, il grosso tir trasportava coperchi per barattoli. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Avellino, che hanno spento le fiamme, riuscendo a salvare parte del carico. La strada è stata interdetta al traffico per alcune ore. Al termine delle operazioni di spegnimento è messa in sicurezza della strada. Tutto è tornato alla normalità. Entro una settimana saranno pronti i 24 posti di rianimazione della struttura modulare allestita all'esterno dell'ospedale di Salerno e ci sono percorsi ben precisi per i pazienti affetti da Covid. Il commissario del Ruggi, Damato, fa sapere che l'azienda adesso è pronta per l'emergenza. L'ospedale Ruggi di Salerno è attrezzato per fronteggiare l'emergenza. Lo ribadisce il commissario straordinario Vincenzo Damato, che replica così alle accuse arrivate nei giorni scorsi dai sindacati. Non solo, la guida dell'azienda ospedaliera fa sapere anche che nei prossimi giorni saranno operativi 24 nuovi posti nel prefabbricato allestito all'esterno del Ruggi d'Aragona per accogliere altri pazienti in vista del picco di contagio e di ricoveri previsto dagli esperti dell'unità di crisi della Regione. Un pre-triage, quindi distinto dal triage classico di pronto soccorso e ogni presidio è dotato poi di stanze o locali di isolamento. Pensi che al Ruggi facciamo il pre-triage e abbiamo poi delle tre stanze di isolamento di cui una pediatrica e in casi eccezionali utilizziamo anche la tenda per l'isolamento. Ci aspettiamo quando poi l'utenza affluirà in maggior numero se dovesse succedere ciò. Oppure per particolari tipologie di pazienti. Analogamente a Sansevelino abbiamo quattro locali per l'isolamento, a Cava abbiamo uno e in caso di maggiore affluenza due locali di isolamento e lo stesso Dicasi con un percorso assolutamente dedicato a Castiglione-Tiravello. Ulteriore aspetto importante è quello della struttura modulare che stiamo realizzando nell'ambito dell'azienda Ruggi. La struttura modulare ha l'attivazione di 24 posti di rianimazione. Ad Avellino il sindaco Gianluca Festa punta tutto sui kit rapidi e gli aiuti per i poveri. Intanto anche la comunità di Montevergine fa la sua parte con il Banco Alimentare per gli Indigenti. Comincia una settimana cruciale per l'amministrazione comunale di Avellino nel contrasto alla diffusione del coronavirus. Il sindaco Gianluca Festa annuncia il piano di Palazzo di Città che si baserà su tre cardini. Da un lato cominceremo con i test rapidi perché noi vogliamo andare a stanare il virus, a interrompere la catena del contagio. Questa è la strategia che ci consentirà di fronteggiare la diffusione del coronavirus. Dall'altro, poiché abbiamo notato che aumentano i poveri, ci sono i nuovi poveri, cominceremo con la distribuzione dei pacchi alimentari, e poi implementeremo il sostegno, la consulenza alle famiglie con i bimbi autistici e con persone non autosufficienti. E soprattutto domani richiederemo ancora più fondi alla regione attraverso il piano di zona per erogare bonus alle famiglie indigenti. Intanto dall'opposizione che oggi ha ottenuto di riunire via Skype la conferenza dei capi gruppo arrivano le proposte di Luca Cipriano. Serve fare più test e organizzare meglio gli ospedali di Avelino e Solofra, così come la rete dell'assistenza domiciliare. E anche la comunità monastica di Montevergine, con l'abbate Riccardo Luca Guariglia, ha steso una mano a chi ne ha bisogno, ricordando che, garantendo sempre l'anonimato, da anni è attivo presso il Palazzo Abbaziale in Mercogliano un banco alimentare a sostegno delle famiglie, degli anziani e di coloro che ne avessero bisogno. Le date di ritiro dalla propria busta di generi alimentari sono il martedì e il giovedì, dalle 10 alle 12. Il comparto agroalimentare in grande difficoltà, la Coldiretti Campania, chiede alla regione di sbloccare i 70 milioni di euro fermi da 4 anni per problemi burocratici. Dalla Coldiretti Campania appello alla regione per sbloccare i fondi dei PSR di circa 70 milioni di euro fermi da 4 anni per problemi burocratici che invece in questa fase di emergenza potrebbero rappresentare un'importante boccata d'ossigeno per il comparto agricolo. Di qui la nota del Presidente regionale e Vicepresidente nazionale dell'Associazione di Categoria, Gennarino Masiello, inviata al Governatore Vincenzo De Luca. È accettabile che queste risorse siano ancora bloccate dopo anni e peraltro sono bloccate per dei cavilli burocratici che già in altre occasioni e in altre regioni sono stati superati per assicurare le liquidità necessarie e le liquidazioni a favore delle imprese agricole. Dalla Coldiretti dunque la richiesta di procedere con il pagamento delle stanze presentate dagli agricoltori campani. Abbiamo chiesto di fare in modo che tutto quello che è fermo negli uffici provinciali dell'assessorato regionale e quindi le domande che anche addirittura dal 2016-2017 a venire avanti sono ferme, si liquidino. Risorse considerate fondamentali oggi per sostenere le imprese agricole in questa fase di grande difficoltà. Queste a nostro avviso sono le risorse che potrebbero dare una boccata d'ossigeno alle imprese agricole che già sono attualmente in grosse difficoltà perché continuano le loro attività. Noi non possiamo fermare gli allevamenti, non possiamo fermare la vegetazione, dobbiamo assicurare i lavori in campagna, però facciamo fatica a vendere le nostre produzioni. Alta tensione ad Eboli nel Salernitano dove è iniziato il trasferimento di 32 ospiti positivi al Covid dalla casa di riposo Juventus di Sala Consilina al Campolongo Ospital. Ai nostri microfoni il sindaco di Eboli, Cariello. Vediamo. È partito questa mattina il trasferimento al Campolongo Ospital di Eboli dei ospiti della casa di riposo Istituto Juventus di Sala Consilina affetti da Covid-19. Sono circa 32 gli anziani che saranno ricoverati nella struttura del Salernitano. Vi stanno arrivando a bordo di ambulanze della Croce Rossa e della Solidarietà. Intanto non si fermano le polemiche. Dopo la decisione presa da Asle Regione di accogliere al Campolongo i contagiati da coronavirus tra i decessi dallo scorso 25 marzo all'interno della casa di cura del Vallo di Diano divenuto un vero e proprio focolaio da contagio. Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Eboli, Massimo Cariello che questa mattina ha ispezionato personalmente la struttura della Piana del Sele. Sono andato a verificare innanzitutto a rendermi conto del percorso esclusivo, dedicato del personale, come era tutelato, protetto e quant'altro. Mi sono voluto accertare innanzitutto di queste priorità. La situazione sembra nel rispetto delle norme e delle regole. Io credo che il problema ora non è all'interno della struttura che ho visto che si sono attrezzati molto bene. Quello che io chiedo all'Asle, al direttore generale Ierbolino e quello che ha solicitato nella mia nota è che secondo me il personale sanitario operante come è capitato in altre parti del nord deve essere delocalizzato alla fine dell'attività lavorativa in strutture, anche alberghiere evitando di prendere contatti con i familiari. La città di Eboli è una città aperta e solidale e lo sta dimostrando e lo dimostrerà. E con questo chiudiamo il nostro telegiornale in regia Aldo Fenizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.